buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video oggi parliamo dei più grandi giocatori della storia degli scacchi e cerchiamo di capire qual è stato il loro repertorio di aperture e di difese quindi in questo modo potremmo fare una sorta di statistica per cercare di capire quali sono le aperture più giocate veramente ad alti livelli innanzitutto voglio ricordarti che venerdì mi raccomando venerdì ci sarà il black friday anche nell'accademia di mattoscacco quindi vieni a farti un giro perché ci saranno sconti interessanti ma torniamo a noi allora io partirei con il grandissimo tigran petrosian che è stato il nono campione del mondo è conosciuto essenzialmente come un giocatore dallo stile difensivo e un maestro della profilassi cioè prevenzione delle idee delle minacce dell'avversario che cosa giocava essenzialmente col bianco ha giocato indistintamente sia 1 d4 1 c4 quindi l'apertura di donna o l'apertura inglese che portano essenzialmente comunque a partite chiuse quindi in stile con la sua personalità e quando invece li giocavano contro 1 cavallo f6 petrosian ha giocato spesso 2 c4 e contro 2 e 6 ha giocato cavallo c3 permettendo la nizzo indiana con i pezzi del nero invece per esempio quando i suoi avversari giocavano 1 e 4 il più delle volte rispondeva con una difesa francese e 6 d4 d5 e contro 1 d4 spesso puntava la nizzo indiana quindi cavallo f6 c4 e 6 cavallo c3 e alfiere b4 quando il suo avversario giocava cavallo f3 quindi prevenendo la nizzo indiana spesso si dirigeva verso la bogo indiana ovvero d4 cavallo f6 c4 e 6 cavallo f3 alfiere b4 e quindi scacco e quindi insomma si andava avanti così ma passiamo adesso a boris spaschi il decimo campione del mondo spesso definito come un giocatore universale cioè un giocatore che stava a suo agio sia in partite d'attacco che in difesa era veramente esperto in tutti gli aspetti del gioco ma credo che sia un giocatore particolarmente eccezionale nel gioco aggressivo con i pezzi bianchi spaschi era creativo aperto essenzialmente con 1 e 4 quindi con l'apertura di re appunto in linea con il suo stile aggressivo contro la siciliana di solito giocava la siciliana aperta 1 e 4 c5 con la f3 ma in parecchie partite invece ha cercato di giocare la siciliana chiusa quindi e 4 c5 cavallo c3 cavallo c6 g3 e contro invece 1 e 5 rispondeva con cavallo f3 andando così verso una rui lopez talvolta anche giocato il gambetto di re con il nero contro 1 e 4 per le più delle volte rispondeva con 1 e 5 e contro 1 d4 c4 rispondeva con la solita cavallo f6 e 6 cercando così di andare nella nizzo indiana ma passiamo adesso al mitico alexander alekin come lo si vuole chiamare il quarto campione del mondo uno dei miei giocatori preferiti in assoluto sconfisse capablanca uno dei più grandi geni di sempre nel 1927 era un incredibile giocatore tattico tagliente è un grande attaccante il suo gioco appunto è caratterizzato da un aumento della complessità e della tensione rispetto per esempio al chiaro stile posizionale perfetto di capablanca per quanto riguarda il bianco spesso apriva con e4 ma il più delle volte giocava anche d4 quindi giocava indistintamente entrambe le aperture con i neri invece alekin ha giocato tantissimo l'anizzo indiana contro 1 d4 quando invece non gli era permessa l'anizzo indiana giocava tranquillamente la difesa est indiana contro e4 giocava tranquillamente e5 andando così nella ruy lopez ma ovviamente è anche famoso per aver inventato la difesa alekin quindi 1 e4 cavallo f6 anche se lui l'ha giocata molto ma molto poco andiamo a michael botvinnik il maestro dei maestri cioè colui che ha vinto il campionato del mondo per tre volte ed è stato vicino ai vertici del mondo degli scacchi per oltre 30 anni è difficile mantenersi vicino alla vetta per 30 anni fu uno dei più grandi pionieri della moderna teoria degli scacchi incorporò all'interno dei programmi di allenamento un allenamento psicologico per quanto riguarda lo studio degli scacchi è un allenamento fisico appunto per cercare di rendere il giocatore nel migliore delle forme possibili ha ovviamente fondato la famosissima scuola all'interno dell'unione sovietica che ovviamente vantava studenti diplomati come anatoly karpov e gary kasparov era un maestro di piani profondi quindi amava i giochi chiusi in modo tale da riuscire così a pianificare creare questi piani a lungo termine ovviamente poi a sbarazzarsi dell'avversario quindi preferiva posizioni chiuse perciò apriva essenzialmente con d4 apertura di donna o c4 apertura inglese quando si trovava di fronte a una difesa est indiana preferiva giocare la variante samish ovvero uno d4 cavallo f6 c4 g6 cavallo c3 alfere g7 e 4 d6 f3 con i pezzi del nero invece contro 1 e 4 giocava essenzialmente la siciliana e la caro ken talvolta si rispondeva anche con 1 e 5 tuttavia il più delle volte giocava la difesa francese cioè 1 e 4 e 6 d4 d5 contro invece l'apertura di donna giocava principalmente cavallo f6 con l'idea poi di dirigersi verso una nizza indiana passiamo ora a anatoly karpov cioè colui che ha vinto il campionato del mondo nel 1975 proprio perché bobby fisher non si presentò alla difesa del titolo ansioso ovviamente di dimostrare a tutti che il titolo non l'aveva rubato ma era meritevole di avercelo ha dominato veramente per parecchi anni in quasi tutti i tornei in cui partecipava karpov è meglio conosciuto con il suo stile chiuso capace di sfruttare i piccoli vantaggi posizionali ed era un grandissimo giocatore di finali finali il finale partita è uno dei è una delle parti della partita più complessa e karpov su questo era veramente veramente eccezionale spesso quindi apriva con d4 ma ha avuto anche grande successo aprendo con 1 e 4 contro per esempio la est indiana anche lui andava verso la variante samish che abbiamo già visto prima in precedenza e invece con i pezzi del nero come giocava contro 1 e 4 ha giocato tranquillamente 1 e 5 andando sia nella ruy lopez ma ovviamente anche molto famoso per la sua caro ken tant'è che è stata inventata anche una linea della caro che è anche la linea 1 e 4 c6 d4 d5 cavallo c3 d per e4 cavallo per e4 cavallo d7 e contro 1 d4 spesso andava verso la nimzo indiana oppure la difesa ovest indiana e il turno ora di capa blanca il terzo campione del mondo è stato un vero prodigio degli scacchi era chiamato chess machine era imbattibile considerato uno dei migliori giocatori di finali di sempre e ce leva nel neutralizzare il contrattacco del suo avversario ma quali erano i suoi i suoi repertori d'apertura ma è abbastanza semplice perché aveva un repertorio piuttosto limitato nonstante abbia giocato sia con e4 preferire essenzialmente d4 e ha giocato il gambetto di donna quindi quando gli facevano d5 rispondeva subito con c4 contro invece la nimzo indiana capa blanca ha aperto la strada a quella che ora è chiamata anche come variazione capa blanca o variazione classica che è data da d4 cavallo f6 c4 e6 cavallo c3 alfiere b4 donna c2 il repertorio anche con il nero era anche questo piuttosto ristretto contro l'apertura di donna spesso aperto con cavallo f6 mirando ad andare a un gambetto di donna rifiutato spesso andava nella solida variante ortodossa d4 d5 c4 e6 cavallo c3 cavallo f6 alfiere g5 alfiere 7 e3 arrocco corto cavallo f3 cavallo bd7 torre c1 c6 è il turno ora di bobby fisher l'undicesimo campione del mondo il suo stile è piuttosto difficile da classificare perché era veramente eccellente in tutte le fasi del gioco sembra che le sue partite veramente non risentono mai di debolezze in nessuna parte il suo repertorio era ristretto ma la sua preparazione era accurata e molto profonda ha giocato con precisione praticamente sia posizioni complesse che semplici ed è anche considerato uno dei più grandi giocatori di finale con i pezzi bianchi ha giocato esclusivamente 1 e 4 e ha giocato partite sia aperte che chiuse andando spesso appunto nella rui lopez tra l'altro ha anche creato una linea il famoso attacco sosin fischer nella difesa siciliana cioè e4 c5 cavallo f3 d6 d4 c per d4 cavallo per d4 cavallo f6 cavallo c3 e6 alfiere c4 cavallo c6 il ripertorio per il nero era diciamo altrettanto ristretto contro e4 ha giocato sia la siciliana ma concentrandosi su una variante precisa la neidorf sia giocando la variante del pedone avvelenato cioè e4 c5 cavallo f3 d6 d4 c per d4 cavallo cavallo f6 cavallo c3 a6 alfere g5 e6 f4 donna b6 contro invece l'apertura di donna ha giocato quasi esclusivamente la difesa est indiana e arriviamo così probabilmente al giocatore più amato nella storia dei scacchi gary casparo tredicesimo campione del mondo il suo dominio a lungo termine sia nelle partite amichevoli che nei tornei non ha veramente uguali detiene il campionato del mondo per 15 anni ed è rimane essenzialmente il numero uno per quasi la stessa durata studente della scuola di botvinic ha portato la preparazione degli scacchi ad un altro livello appunto combinando la preparazione fisica alla preparazione psicologica analitica eccetera eccetera è noto per il suo stile essenzialmente aggressivo con i pezzi bianchi casparo ha giocato d4 e 4 allo stesso modo scegliendo diciamo solitamente le armi in base anche alla preparazione del suo avversario è noto per aver rilanciato la scozzese cioè 4 e 5 caol f3 c6 d4 ma più spesso ha giocato la rui lopez è stato descritto come il solito giocatore in grado di cercare di trovare le mosse più difficili in ogni posizione e ci stava molto bene all'interno di queste posizioni complicate con i pezzi neri invece casparo ha cercato sempre le linee più taglienti e combattive contro e 4 ha scelto praticamente esclusivamente la siciliana giocando la variante della scheveningen e all'inizio della sua carriera poi migrando verso la neidorf contro invece l'apertura di donna ha giocato una serie di aperture tra cui la difesa indiana l'est indiana ha giocato la grunfeld ha giocato la nizio indiana eccetera eccetera bene io spero che questo video questo viaggio all'interno dei giocatori più forti che ci siano mai esistiti ti sia piaciuto come al solito ti invito a lasciare un like un commento e se ancora non l'hai fatto perché il 50 per cento degli utenti che guardano il canale di matto scacco non è iscritto quindi iscriviti per rimanere aggiornato sui prossimi nuovi video noi ci vediamo domani ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao